Marco D'Aoro, responsabile della cucina. Quali sono le novità di quest'anno? Vabbè, innanzitutto con l'edizione 2013 abbiamo inserito la raccolta ordini con i tablet. È stato veramente un successo, sia per quanto riguarda la velocità nella raccolta dell'ordine, sia per quanto riguarda proprio il servizio. Quindi c'è stata una grossa miglioria che portiamo avanti anche quest'anno, una miglioria che dà modo a chi lavora di lavorare più in tranquillità, quindi migliorare la qualità del lavoro e nello stesso tempo anche migliorare proprio il servizio perché i piatti escono più veloci della cucina. Nello stesso tempo, a partire sempre dall'edizione 2013 e continuiamo con il 2014, inserendo ancora una parte, abbiamo inserito praticamente sulla linea di distribuzione una rete di lampade infrarossi che ci tengono i piatti in caldo dall'attimo della preparazione all'attimo della distribuzione. Anche quello ha migliorato tantissimo la qualità dei prodotti e dei piatti in uscita.